Il titolo, Automate the Boring Stuff with Playwright, è un, per chi venisse o abbia esperienza del mondo Python, è sì, un riferimento al libro quasi omonimo, Automate the Boring Stuff with Python, appunto. Noi lo faremo invece, volevo inizialmente avere lo stesso approccio con Playwright, quindi far vedere se possiamo imparare, insomma, qualcosa su Playwright automatizzando qualcosa di, appunto, noioso o meno. Vedremo se ci siamo riusciti. Chi sono io? Salve, io sono Enrico Wolanski e faccio il mio titolo è software engineer per un'azienda che si chiama Tui Musement. Musement è una start-up fondata a Milano nel 2013, il cui prodotto principale, Musement.com, è una piattaforma online per, diciamo, prenotare attività, biglietti. Se a Firenze volete andare agli uffizi, Musement.com. Siete in vacanza in Grecia e voi se stufate di stare in spiaggia o volete fare in cibo in barca, Musement.com. Nel 2018 Musement viene acquisita da Tui, che è il più grande gruppo mondiale attivo nel turismo, il cui dominio va da tour operator a compagnia aerea, traghetti, insomma, tutto quello che può avere a che fare col turismo a 360 gradi, ma Musement non entra solamente in Tui in quanto portatore di un prodotto, ma entra quasi più come software house. Infatti siamo passati nell'arco di tre anni da curare un unico progetto, che era Musement.com, ad avere oggigiorno, insomma, sia come sviluppo e gestione, oltre dieci applicativi. Il motivo per cui, insomma, facciamo questa piccola sviolinata pure a mio datore di lavoro, qual è? È perché in Musement, se abbiamo questa posizione all'interno del gruppo Tui, è anche perché c'è un forte investimento nella preparazione degli sviluppatori. All'atto pratico, questo avviene in vari modi, ma uno di questi è che il venerdì abbiamo il Tech Friday, dove, a meno che tu non abbia chissà che scadenze, puoi utilizzare la giornata, mezza giornata, per formazione. Quindi sia che, non so, ti devi vedere qualcosa di AWS, perché, non lo so, ti serve qualche prodotto loro, non so, per rilasci, pipeline di GitLab, ti viene assegnato, ma si può anche sperimentare. Quindi, qualsiasi cosa non ti piace durante la tua giornata di lavoro, pensi che vuoi provare un altro approccio, si possono usare i Tech Friday per questo. Molti finiscono, molte cose che facciamo di Tech Friday finiscono con successo ad essere dotate, tante, no. Questa vedremo. Quali sono gli obiettivi di questo talk? Ne abbiamo principalmente tre, quindi vedere un po' che cos'è il testing end-to-end, l'automazione, qual è, insomma, il mercato a livello software in questo ambito, vedere come si colloca in questo playwright, quindi anche confrontandolo con altri prodotti e far vedere, magari, se abbiamo tempo, qualche utilizzo, fare magari del live coding e vedere se, insomma, possiamo farci qualcosa. Piccola avvertenza, non sono un QA engineer, non faccio test di professione, non scrivo test di professione, anzi, nella nostra azienda, i test end-to-end, li fanno quelli che chiamiamo test engineers. Quindi io, tendenzialmente, ne ho visti molto pochi, soprattutto nella mia azienda, e la mia esperienza con molti di questi tool è piuttosto limitata. Insomma, è molto alta la probabilità che qui dentro metà delle persone ne sappiano di più di meno. Tuttavia, mi ricollego anche a quello che diceva prima, insomma, veniva detto prima del RomaJS, anche come campo, per provare, insomma, le talk e far vedere le cose, qual è una grande differenza fra una conferenza e un meet-up? Non è tanto la qualità degli speaker, chiaramente magari un meet-up oscilla di più, ma abbiamo avuto in questo meet-up persone delle aziende più importanti, che ci portavano talk, che poi magari avrebbero portato un mese dopo a grandissime conferenze. Insomma, non sono gli argomenti, non sono gli speaker, la grande differenza è il pubblico. La differenza, quindi, perché questo è importante? Perché qui non c'è una conferenza sul testing dove chi è a vent'anni di esperienza nel testing vi viene a portare le sue idee. No, qui è qui uno sviluppatore che parla ad altri sviluppatori e vi dice ma io ho provato questa cosa, ci posso dirare qualcosa di utile? Che ne pensate voi? Questo è come li ho trovato io. E questo lo ricollego anche ad una delle talk che più mi ha impressionato in queste aule, non tanto per i contenuti, era quella di Alessio Biancalana sugli styled components. Chi fosse presente, qualcuno lo vede, disse in quel meet-up una cosa che io trovai molto illuminante, proprio nella maniera in cui si vede un meet-up. Alessio non era il più grande esperto mondiale né di React, né di CSS, o di tutto questo, però ci ha portato qualcosa di estremamente prezioso, ci ha portato la sua esperienza, ci ha portato il suo problema. Avevamo questo monolite di CSS, l'abbiamo smontato con styled components, ci siamo trovati bene. Questo per me è un racconto molto più interessante, molto più di impatto che non magari una cosa che mi può dire un guru che si trova a una conferenza, perché siamo molto distanti, le nostre realtà sono differenti, invece quella di sviluppatori a sviluppatori può essere molto interessante. Tuttavia rimane il punto che, insomma, se qualche cosa posso essere carente, perdonatemi. Detto questo, quando ho iniziato a scrivere le slide per questo talk, questa talk, insomma, se uno preferisce il maschile o femminile, mi sono a un certo punto fatto una domanda di quelle proprio inutili, e la principale che mi sono chiesto è quale fosse lo skill set di un front-end engineer. Ho scritto ingegnere e non sviluppatore, perché lo sviluppatore di questi tre, non si vede bene, ma sono solamente tre, lo deve avere, ovvero sviluppare codice che deve girare all'interno di un browser, parliamo di sviluppatori front-end. Tuttavia, per chiamarsi engineer, oltre e fuori al titolo, magari ci vorrebbe anche la laurea, quello sì, però secondo me le caratteristiche proprio di abilità portanti sono l'attitudine al problem solving, che non sia solo di codice, anzi, ma che sia proprio un'attitudine del risolvere problemi con meno sforzo possibile, no? Ovvero avere l'approccio di pensare alle cose, e a tutte le proprie azioni, in termini di costo e beneficio. Se facciamo una cosa così, quanto ci costa di tempo e che beneficio c'è? Questa è una caratteristica che è un po' carente, secondo me, ma l'altra non è, forse mi rendo conto di non averla a pieno, finché non ho iniziato un po' a approfondire molto più questi temi, è anche l'automazione del browser stesso. Se ci pensate, è possibile che scriviamo così tanto codice, parlo per sviluppatori front-end, che poi va a finire nei browser, però poi ci manca la parte dell'interazione stessa col browser? Secondo me anche questa è una parte importantissima, e quando dico browser potreste anche metterci la parola user agent, per chi, insomma, non è proprio nerd della terminologia, user agent significa programma, e nella specifica HTML, HTTP o CSS che cercate, user agent è un programma che è in grado di interpretare quel linguaggio, nel caso di CSS, HTML o quello che è, e farci qualcosa. Il browser è solo uno degli user agent possibili, ma non è l'unico. Anche nel protocollo HTTP abbiamo lo stesso user agent. Quando dico interagire quindi con un user agent, intendo non solo forse anche col browser, ma intendo anche tool come Prettier. Prettier è uno user agent a tutti gli effetti, è in grado di comprendere CSS, è in grado di comprendere JS secondo la specifica, e ci fa quello che ci pare. Quindi secondo me la parte di interazione è una delle parti che più vale la pena sviluppare, se ci si vuole considerare ingegnere, quindi uno che mette sul piatto il costo e il beneficio delle proprie azioni, e del tempo ovviamente che richiedono. Perché dovrebbe poter servire un tool per interagire con un browser? Beh, quello di cui parleremo principalmente è il testing, che vedremo un po' di più, ma fondamentalmente tutte queste quattro casistiche sono estremamente valide. Ne aggiungerei una quinta che forse magari vediamo alla fine, però fondamentalmente il testing, come tutte queste cose elencate, risponde a una domanda, il testing del tipo quello che mi aspetto succede, i requisiti sono rispettati, o l'automazione, posso automatizzare cose che sono piuttosto ripetitive, pensate a tutti i giorni, a quante azioni compiete nell'interazione con un browser, cioè mi sembra proprio una formula che dice quando vale la pena automatizzare o no, ovvero se prendete il tempo medio che ci mettete al giorno, lo moltiplicate, che ne so, per un anno, se è un minuto per 365, vuol dire che se ci mettete meno di 6 ore, quindi meno di 360 minuti, ad automatizzare quell'azione, ci avete guadagnato, se non no. Abbiamo lo scraping, lo scraping generalmente non viene fatto all'interno dei browser, ma con altri contesti che vanno semplicemente a fare delle richieste, HTTP, ricevono dell'HTML e ci fanno qualche cosa. Secondo me è molto più facile con un browser, per vari motivi. Vedremo dopo perché. E c'è anche la questione benchmarking, quindi misurare le performance. Rispendo la domanda, posso misurare delle performance con, appunto, con dei test automatici? Certo, lo posso fare. Penso molti di voi avranno visto o ne ha parlato Guido l'altra volta, ad esempio, di Lighthouse. Lighthouse è uno di quei bei tool che tu puoi mettere nella tua pipeline di rilascio, su GitLab, su GitLab, nelle tue azioni, e ogni volta che emergi qualcosa o fai una pull request, puoi andare a misurare se delle misure sono migliorate o peggiorate. C'è un problema, però, secondo me, del misurare questo tipo di cose. È chiaro che grandi variazioni magari ci possono suggerire qualche cosa. Però, vabbè, questo magari lo vediamo un po' più nel dettaglio dopo. Però, per farne il sunto, noi non possiamo semplicemente esistere in un vacuo e dire questo è il browser, viene lanciata l'applicazione, questa è la performance. No. Perché esiste, ad esempio, l'utente che ha Chrome liscio e quello che ha, ad esempio, un adblocker. Se sapete come funzionano gli adblocker, sapete che per le performance di un sito sono delle ammazzate tremende. Ecco, tool come Playwright ci permettono anche di, ad esempio, fare misure di benchmark o installando delle estensioni, se ci sarà tempo dopo lo vediamo. Comunque, questi erano gli utilizzi. Qui un'opinione forse un po' controversa, non so quanto, ma io sono altamente nemico dei test unitari. Penso che siano un po' una perdita di tempo, quasi sempre. Mostra lì significa, se volete dargli un numero, 95%. Perché? Perché a che cosa serve il testing, no? Se parliamo di testing, serve a rispondere a delle domande. Il problema è che gli unit test non rispondono alle domande che interessano a me. Non mi dicono se l'utente può davvero navigare dentro al mio... che ne so. Farò l'esempio di un'applicazione stile Amazon quando farò riferimento, perché penso che più o meno tutti la conosciamo. Posso navigare il mio negozio Amazon? Posso funzionare bene la ricerca? L'utente può pagare? Quali sono... Qual è l'esperienza su device differenti? Tutte queste cose, che sono le domande che secondo me sono più importanti, gli unit test non danno risposta. Le risposte che ho è è stata triggerata un'azione, è stato chiamato un evento, lo store è stato aggiornato, oppure, che ne so, il componente fa davvero il render di un bottone, di un pulsante, insomma, che sono secondo me dei test che lasciano un po' il tempo che trovano. Vediamo un po', perché magari citiamo pure una definizione, perché innanzitutto secondo me sono molto costosi da scrivere. Non so chi di voi, immagino tanti qui dentro abbiano scritto componenti complessi, avrete avuto, secondo me, sicuramente l'esperienza per cui finiva da scrivere molto, ma molto più codice per i test che per non per il componente stesso. Quindi sono estremamente costosi, soprattutto perché, lo vediamo nei punti dopo, non stiamo davvero nell'applicazione, quindi dobbiamo metterci i stub, i mock, le fixtures, dei timeout, un sacco di cose, ma sono molto costosi e per gli stessi motivi sono anche molto costosi da mantenere. Pensate che lato back-end qualcuno va cambiato l'API, il risultato deve essere lo stesso di prima, voi dovete cambiare l'API, dovete cambiare i test unitari, l'applicazione funziona come prima, però per ogni cambiamento devo andare a modificare anche di solito gli unit test, no? Abbiamo parlato già insomma dello scope, dell'environment che è molto ristretto, pensate a se fate test di componenti con gest che emula il DOM, anche questi test non è che siano inutili, però andrebbero fatti quando ce n'è davvero un senso, non è che io penso siano tutti inutili gli unit test, però devono aver senso. L'esempio penso che tutti più o meno ci può venire in mente dove uno unit test è utile e se vi è mai capitato di formattare una data, se vi è mai capitato di doversi realizzare qualcosa per tirarci fuori una query, in quel caso è proprio il test driven development secondo me che ci aiuta, perché ci possiamo scrivere tutte le casistiche prima e poi scrivere un'implementazione che passi semplicemente i test. In quel caso è chiaro che i test unitari sono estremamente utili, però secondo me sono questi i casi in cui andrebbero fatti, non nel 90% di quelli che almeno vedo io. Ovviamente abbiamo feature limitate, pensate che fate un componente che richiede geolocalizzazione che geolocalizzazione usate, dovete usare i stub, i mock, magari le API sono ancora in fase sperimentale ma voi le volete già rilasciare, auguri. Ma la cosa più importante sul nome è l'ultimo punto, gli unit test servono a solo un pubblico, i sviluppatori front-end, non gliene frega niente a quelli che fanno back-end, non gliene frega niente a quelli che fanno prodotto, non gliene frega niente a nessuno, perché? Perché sono test fatti per il tuo stesso team. Diverso il caso dei test end-to-end che secondo me invece andrebbero prioritizzati di più, poi diremo anche perché magari non è solamente negli ultimi tempi che prende in mano questa cosa, perché? Perché i test end-to-end sono molto più facili da scrivere, che non se avete appunto visto componenti complessi in vita vostra sapete di che cosa parlo, la manutenzione di un test end-to-end inoltre è molto minore, perché il prodotto cambia molte meno volte del codice, fare un refactor, cambiare API, tutte queste cose sono cose che avvengono all'odio del giorno, cambiare il comportamento della nostra applicazione, no. Abbiamo lo stesso scope dell'applicazione reale, perché siamo in un browser, abbiamo tutto, abbiamo la geolocalizzazione, insomma, poi dipende anche ovviamente dalle librerie che uno usa, ma la cosa più interessante è l'ultimo punto, rispondo ad una domanda, ovvero i test end-to-end mi dicono ma l'applicazione funziona, riesco a pagare, riesco a nevicare, riesco a fare tutte queste cose, se lancio un test end-to-end sul mio sito, che sia la versione di produzione o magari quella di sviluppo e faccio tutto questo con dei test che proprio lo fanno nel browser, ho una certa confidenza, con gli unit test io non ce l'ho. Piccolo aneddoto, non so se vi è mai capitato il fissato della coverage nei vostri team, e io sempre avevo un tech lead back-end che era fissato, quindi una call una volta se non ci dicendo ah, noi nel progetto precedente avevamo il 100% di test coverage, al cui ho risposto semplicemente sì, ma l'applicazione non funzionava mai. Questo è pure perché gli unit test tendenzialmente finiscono a focalizzarsi più sulla quantità che non ha davvero alla logica di business. Un test end-to-end rende la logica di business molto più semplice, no? Qui vediamo i quattro tool che ho voluto insomma, di cui ho voluto parlare stasera, non li andremo a vedere nel dettaglio, ma sono quelli che io considero i quattro più emblematici in materia end-to-end. quando parlo di questi tool servono sia a fare test che a fare automazione, si possono usare per tutti e vediamo un po' quali sono le differenze. Selenium è il progetto Tigran Lunga più vecchio. Se qualcuno vi punta una pistola addosso e vi dice mi devi dire che libreria devo usare per fare i test dovete dare una sola risposta ed essere quella giusta dite sempre Selenium. Il motivo nasce eh, bravo. il motivo nasce dal fatto che Selenium è il più vecchio di tutti quindi qualsiasi casistica che vi possa venire in mente di testing probabilmente nella community di Selenium è già stata vista potete trovarla in tutorial libri documentazione forum molti usano Selenium è il prodotto più importante quindi conviene quello inoltre è quello che supporta più linguaggi di programmazione abbiamo addirittura Perl che pensavo servisse solamente negli script bash invece si possono anche scrivere test end to end automatizzare il browser ed è quello che supporta più browser di tutti in particolare Internet Explorer Selenium ha però un grande problema perché se no non sarebbero arrivati quelli successivi innanzitutto è che Selenium per comunicare col browser usa un'API specifica che ha inventato lui ma che poi è diventata standard che si chiama WebDriver quindi i browser che vedete qui nella lista sono fondamentalmente i browser che implementano WebDriver come API e proprio essendo una specifica dietro alla quale per le modifiche ci vogliono spesso mesi anni eccetera eccetera lo sviluppo di Selenium è lo sviluppo un po' di un carrozzone e anche scriverci test soprattutto appunto come bofonchiava Matteo poco fa non è proprio una delle esperienze migliori soprattutto fino a poco tempo fa perché mi sembra che con l'ultima versione qualcosa è migliorato poi abbiamo un altro tool che mi sento emozionare è Puppetir Puppetir ha una grande differenza da Selenium innanzitutto è stato rilasciato ben 13 anni dopo è molto più selettivo supporta solo JavaScript comunque quando leggere JavaScript qualsiasi linguaggio che compigli è JavaScript o giri su Node.js e l'unico browser che supporta però sono quelli Chromium based secondo me vabbè andremo poi dopo a dire quando usare uno e quando usare un altro l'altro tool che sta prendendo molto piede ultimamente è Cypress è un progetto di una startup omonima supporta Chromium e Firefox e la prima versione è stata rilasciata nel 2016 arriviamo dunque all'ultimo a Playwright quello di cui andremo a parlare la prima versione del 2019 quindi estremamente recente supporta già quattro linguaggi insomma Python Java Node.js .NET quindi Fsharp Csharp tutto quello che compila .NET i browser che supporta sono tutti non c'è Internet Explorer però c'è WebKit il fatto che ci sia WebKit non è da poco perché Playwright è l'unico che c'è là che non si chiami Selenium e l'esperienza vi posso dire che potete lanciare i vostri test se state sviluppando su una macchina Windows su un vero WebKit questo non è da poco potete lanciare i vostri test end-to-end anche se avete la vostra pipeline che usa Alpine Linux funziona ovunque per me di cui tutte le feature è quella più importante perché non posso fidarmi di un'applicazione che non è stata testata almeno su questi tre browser ci sono vari bug che appaiono solamente in WebKit e e quindi se ne dovessimo scegliere uno se proprio qualcuno ci punta la pistola addosso ovviamente per il testing l'abbiamo detto giochiamo facile e magari scegliamo più Selenium perché se una scelta così importante che non puoi neanche sperimentare vai sul sicuro abbiamo poi Puppetir che magari secondo me è più orientato verso lo scraping la collezione di dati che non ha il testing vero e proprio e utilizza questo il protocollo dei DevTools e non WebDriver per comunicare quindi Puppetir è stato scritto inoltre da Google abbiamo poi Cypress Cypress ha preso molto piede negli ultimi anni io non l'ho usato molto ma so che l'esperienza soprattutto per chi viene dall'ecosistema React è piuttosto positiva almeno per ciò che concerne il testing e Playwright in tutto questo? Beh andiamo avanti innanzitutto chi è che ha sviluppato Playwright? Playwright è un prodotto di Microsoft secondo me in ambito web e in particolare quello front-end e JavaScript Microsoft ne ha seccate parecchio negli ultimi anni insomma Visual Studio Code è probabilmente il prodotto che più conoscete seguito da TypeScript insomma c'è molto investimento da parte di Microsoft nei confronti di JavaScript in generale e del browser in generale perché core ha il suo business pensate che tutti i più grandi prodotti importanti di Microsoft volenti finiscono poi sul web per cui parliamo di applicazioni spesso gigantesche come la Suite Office quindi sia lo svilupparle che manutenerle che testarle rappresenta costi enormi per Microsoft per cui investe molto in questa direzione il team in particolare che ha scritto Playwright è il team che originariamente ha scritto Puppeteer quindi l'hanno presi se li sono rubati da Google ma tra gli sviluppatori insomma di Playwright inclusi quelli stessi di Puppeteer che poi sono entrati nel core abbiamo tutta gente che come vedete ha lavorato molto in quel dominio quindi Web Inspector di WebKit i DevTools di Chrome ovviamente per Puppeteer che usa il protocollo dei DevTools c'è stato molto lavoro anche lì mi sembra che l'autore del primo debugger diciamo ufficiale di Node.js sia anche uno degli autori di Playwright insomma è bello sapere che il team che ha scritto questa cosa è un team che già conosceva molto bene la problematica dell'interazione con un browser qui insomma l'abbiamo già detto non mi so ripetere comunque per me la feature di gran lunga per cui lo consiglierei oltre al fatto che sia più facile da usare di Selenium piccolo spoiler è che ci sia un WebKit su tutte le piattaforme e questa insomma è una piccola carrellata delle feature che poi insomma magari vediamo più nel dettaglio poi quando vediamo il codice uno dei grandi problemi storicamente di Selenium qual era? andavate sul vostro indirizzo ma l'indirizzo non restituiva un semplice file HTML statico ma magari era una single page application vi aspettavate di trovare che ne so il vostro testo il vostro pulsante non lo trovate perché? perché deve essere ancora renderizzato questo causava soprattutto in Selenium dei brutti test dove si caricava si aspettava però non erano mai come si dice affidabili questi test Playwright diciamo che risolve questo problema ha un suo timeout interno che poi volete cambiare per ogni API mi sembra che nei test sia di 30 secondi però insomma voi lanciate la pagina lanciate il test se a un certo punto dentro il timeout apparirà l'elemento che corrisponde al vostro selettore il test passerà per cui andiamo a scrivere dei test che sono fondamentalmente sincroni abbiamo questo resilient selectors che vedremo magari dopo quando vediamo i selettori e tante altre cose può fare Playwright insomma non menzionare alcune possiamo avere geolocation possiamo emulare i permessi se vogliamo vedere dove si trova l'utente dobbiamo chiedergli il permesso posso emulare questo posso fare posso controllare il network immaginate che state sviluppando una pagina l'API che vi serve nella home page non è pronta gli dici vabbè senti mi fai vedere un oggetto tipo di quelli che arrivano lanciate comunque la vostra richiesta nel test e poi è Playwright che si occuperà ad intercettarla e a passare quel dato questo vale anche nel registrare le chiamate che vengono effettuate pensate che avete un solo happy case siete in pieno sviluppo registrate quello e poi lo potete utilizzare per tanti altri test no? in più non stiamo semplicemente emulando una pagina stiamo emulando un browser possiamo avere quante pagine vogliamo vari domini i frame insomma i selettori sono molto buoni anche con la shadow dom insomma dark mode potete emulare input nativi upload download quello che vi pare è molto potente a livello difficile Playwright è una che secondo me questa era un po' la cosa che ve lo fa vedere alla fine Playwright permette di scrivere i test poi lo facciamo insieme in maniera interattiva lanciate questo comando npx playwright bla 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 navicate fate quello che vi pare mentre navicate verrà generato il codice automaticamente che vi fa vedere cosa succede quindi quando io penso a tutti i mesi che passano molti QA engineer che conosco a scriversi tutti i test a mano a farti le pull request perché gli serve il data test id come attributo perché se no non riescono a selezionare l'elemento di qua di là pensate di avere un generatore automatico di test che semplicemente deve interagire col browser non è poco ovviamente nel test vero e proprio magari andrete a modificare quello che vi serve ma è potentissimo tutto questo abbiamo l'inspector quindi possiamo vedere proprio come viene eseguita la pagina quindi quanto tempo ci vuole tra un evento all'altro possiamo vedere che ne so tutte queste metriche tipiche poi dei dev tools perché può comunicare anche con i dev tools quindi tempo di render quello che succede dietro e lo potete vedere anche in corrispondenza alle varie azioni che avete fatto quindi anche qui c'è un poi ovviamente se uno vuole si può scaricare poi il log insomma quello che genererà e vedere poi magari avere traccia pure dei numeri che generano quindi anche qui entra in azione il fatto del benchmarking ma tante altre cose posso fare una il mio designer mi ha dato lo screen di come deve apparire sull'iPhone 13 posso fare il test sull'iPhone 13 e verificare che quel componente o quella pagina effettivamente sia non solo uguale allo screenshot ma anche più o meno simile questo ve lo faccio vedere insieme un'altra grande problematica soprattutto di chi scrive applicazioni che hanno a che fare con il login è il login non posso stare a rilasciare test in cui metto magari i miei dati sensibili spesso la cosa viene risolta con dei fake users però adesso vedremo anche Playwright che soluzione ha abbiamo automazione Android automazione Electron selettori Xpads selettori CSS selettori React possiamo proprio andare a targettare il componente React selettori Vue abbiamo tante altre cose che proprio non finirei mai di spiegare c'è anche per chi fosse senti a me non mi va di scaricare tutta questa applicazione vedere tutte queste cose e che mi scrive codice dove sta? un'altra a destra sì grazie possiamo vedere che non so perché si veda così piccolo forse è che ho attaccato vabbè comunque possiamo vedere che in pieno stile diciamo delle librerie Microsoft abbiamo proprio un playground online quindi in questo caso vediamo come funziona il codice di questa libreria se volessimo fare uno screenshot facciamo run vediamo che succede però insomma andrà a fare le cose che sono dettagliate a sinistra che erano in questo caso vediamo anche un po' di API che è piuttosto semplice se si è andata a prendere due browser li ha lanciati qua in launch tutte queste cose nei test non servono perché basta semplicemente partire qua dalla pagina fondamentalmente aperta la pagina va a questo indirizzo che vediamo anche qui e fa lo screenshot della pagina vediamo come bassino veramente poche righe di codice perché fondamentalmente sono queste due in un test avremmo avuto solamente queste due righe di codice quindi pensate a fatto che avete il vostro bug in produzione pensate quanto può essere facile generarselo via CLI e magari lo copia e incollate qua sul playground passate il link perché anche qui si può fare share lo passate al vostro collega e gli dite oh poi ci succede sta cosa tu riesci a debuggarla che è molto più semplice che non su Slack a fare copia e incolla di codice detto questo andiamo a vedere un po' la parte leggermente più interattiva dico leggermente perché ah un'altra cosa ovviamente essendo un prodotto di Microsoft è possibile c'è anche l'estensione per Visual Studio Code per cui voglio lanciare questo test adesso speriamo che funzioni e posso andare anche insomma a vedere subito dove sta se un test fallisce avrò il feedback qua nell'editor che non è poco che abbiamo fatto qua no perché mi fa command cosa non va forse perché ho attaccato un altro moio ma non mi fa command più vabbè diciamo come gli antichi view dove sta layout appearance zoom in oh era questo qua command oh vale si vede un po' meglio e quindi insomma è molto interessante perché è utile avere questo tra l'altro se volete eseguirne solo uno vediamo se funziona potete eseguirle potete eseguirlo anche uno solo in isolamento ho preso uno dei più lunghi vabbè questi sono tutti i test che secondo me sarebbe un po' inutile andare a far vedere però volevo far vedere un po' diciamo il gist insomma quello che sono riuscito a fare con questa libreria innanzitutto abbiamo parlato dell'approccio ingegneristico prima qual era il mio approccio e qual era il problema che volevo risolvere volevo generare un'immagine un'immagine che contenesse diciamo è finita da poco il mondiale Formula 1 sono un grande appassionato volevo mettere tutti i risultati di Verstappen in un'immagine c'erano vari problemi il primo era recuperare i dati ma perché comunque uno dice vabbè vai su Wikipedia a tirare i copi in colli e non è così semplice se ci proviamo ad esempio facciamolo live facciamo su quest'altro browser andiamo su Wikipedia 2021 ok penso di questo vada bene insomma se uno volesse andare a prendersi che ne so in maniera un po' naive i risultati da qua inizia a fare copia e colla qui insomma non vi verrà né formattato bene insomma non riuscirete a recuperare tutte le impostazioni tutte le cose insomma non è proprio pratico no al di là della collezione dei dati che insomma è un problema che si può risolvere anche a mano in pochi minuti chiaramente a meno che non doviate automatizzarlo è meglio farlo a mano ma al di là di questo problema c'è anche poi il problema proprio del creare il raster ovvero l'immagine finale non so usare paint non so usare photoshop le poche volte che riesco a fare qualcosa ma devo tornare indietro è la morte quello che però so fare è mettere del testo su una pagina web e quindi nel mio caso che cosa ho fatto insomma senza che vada a commentare tutto il codice sono andata a prendermi questa è la versione vecchia quindi è molto verbosa in verità si può fare molto più brevemente che succede qua? qua faccio tutti questi test quindi vado a vedere senza il nostro codice che vado alla pagina che riesco a selezionare l'elemento giusto che riesco a prendere la tabella giusta perché una feature molto interessante di Playwright dei suoi selettori quale a volte ecco vi faccio vedere faccio prima far vedere l'esempio quando io volevo quello che volevo fare era prendermi i dati di questa tabella per fare questo che cosa ho fatto? non saprei come selezionare questa tabella quando uno schiede i test sono tutto end to end voi avete l'approccio di chi sta usando l'applicazione io non so esattamente come si può selezionare questa tabella come faccio? se faccio select table ce ne sono svariato non posso fare select table quello che però posso fare è che Playwright ha dei selettori estremamente interessanti ad esempio ci sono gli selettori di layout questo non abbiamo la slide quindi andiamo a vedere se c'è qualcosa di diciamo se basta quando ti serve un link non c'è mai quello utile all'API Allora innanzitutto una cosa che si può vedere già qui è che possiamo mischiare sia diciamo questi sono selettori sia selettori Xpat come abbiamo detto che anche quelli CSS o semplicemente anche magari questo credo sia Xpat no? però ce ne sono altri più utili che dove diamine stanno ok prima trovarlo sul codice below selector per cui a quanto pare mi sono anche scritto un helper che cosa fa? prenderà il primo selettore di qualsiasi tipo sia e mi va a trovare quello che sta sotto quindi nel mio caso quello che sono andato a fare quando ho usato questo selettore che abbiamo utilizzato qui sono andato a prendere esempio qui prendimi lo span che sta no questo non mi interessa perché lo span? questo è lib qua ok in questo caso ho questo selettore in questo selettore un altro helper che si ha first prende semplicemente l'ennesimo uno selettore quindi mi prende il primo la prima tabella sotto questo testo nel mio caso il testo che cos'è? è il secondo è la seconda occurrence di questo perché? perché se io vado qui sulla pagina originale ovviamente possiamo vederlo anche in maniera più semplice e vado a cercare questo testo questo non è il primo testo che appare perché il primo è il link abbiamo il link e poi abbiamo questo qua il titolo no? quindi nel mio caso dovevo andare a prendere il secondo che avesse questo testo dopodiché vado a prendere la prima tabella che si trova sotto quel testo in quel caso la tabella era appunto quella precedente in tutto questo posso anche generarmi degli screenshot no? quindi in questo caso ad esempio mi sono andato a generare uno screenshot quindi se andiamo nella cartella screenshot e andiamo a vedere il first table questa è la tabella che sono andato a selezionare quando dico che voglio fare uno screenshot non lo fa esclusivamente della pagina ma anche della vostra selezione in questo caso sono andato a selezionare esattamente la prima tabella che stava sotto a quel testo e poi vabbè in un senso vi faccio vedere il codice siamo andati a selezionare la prima riga e la seconda riga e da questa insomma ci siamo andati a prendere i risultati andando ricorsivamente dentro alle celle che stavano dentro alle righe abbiamo in verità un po' generato un output che è questo qua l'ho salvato come json dovrebbe stare qua json ok alla fine di tutti questi test è curioso tra l'altro vedere come a volte la differenza fra test e applicazione sia un po' vaga perché tutto quello che ho scritto io sono stati esclusivamente test ma si possono definire anche un'applicazione tutti questi test secondo me sì perché c'è stato un side effect ho generato dei risultati alla fine lo scopo di qualsiasi programma per computer è quello di darci un risultato se ha fatto un calcolo ma non ce lo restituisce in qualche modo non ha fatto nulla se volete fare un calcolo inutile in javascript potete fare semplicemente 3 più 3 o 3 per 3 il calcolo viene eseguito javascript non è che lo salta lo farà ma è inutile perché non viene dato un passo a nulla quindi è sicuramente secondo me questo test anche qualificabile come un programma questa è la prima parte che ci interessava insomma la generazione di questo json formattiamolo bene che vedete è fondamentalmente un oggetto che ha il nome del pilota e da questo mi sono trovato tutte le corse come si era piazzato insomma se c'è il giro veloce e bla 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 è la pole position questa era la prima parte ovvero la collezione di dati che come ho già detto precedentemente era molto più conveniente farla a mano però uno c'è stato un'utilità insomma educativa nell'impararlo e la seconda è che comunque questa cosa è ripetibile se lo voglio fare per 20 piloti per 30 piloti o per ancora più casistica questa è una cosa che posso riutilizzare l'immagine raster prodotta da paint no dove siamo sempre da capo a 12 quando ho iniziato a fare questa cosa non so dove sarebbe andata a parare ho tutti questi dati che cosa ci posso fare ad esempio andiamo a vedere un altro test vabbè questo era il test della presentazione ma mi sembra dove sta era un po' una cosa inutile cioè andavamo alla pagina delle slide che erano quelle che stavo precedentemente vedendo sono andata a verificare che semplicemente ci fosse il titolo il nome bla 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 e alla fine siamo andati a fare questo screenshot che vabbè non ci interessa quello che invece potremmo testare ecco vediamo invece se possiamo unire proprio sviluppo e testing insieme questo è un caso un po' più carino che ho fatto che cosa faccio in questo test non semplicemente vado a una certa url ma addirittura lancio una vera e propria istanza di di un server che mi restituirà insomma il mio servizio web lancio vite che è una sorta di web pack se volete in un processo figlio aspetto almeno un secondo in questo caso ho dovuto usare il timer è l'unico timer che ho usato perché? perché vite ci mette un pochetto a ricaricare la pagina e a rimandarla quindi insomma gli do almeno un secondo vite è molto veloce avreste fatto un react qua forse avreste dovuto aggiungere uno zero almeno se non insomma moltiplicare per 30 o 40 e insomma in questo test che cosa vado a fare semplicemente andiamo all'url 3000 prendiamo uno screenshot e controlliamo che insomma nella pagina sia anche presente ciao roma.js insomma lanciamolo vediamo che succede come vedete faccio tutto da visual studio code non devo aprire nessun terminale che è utile e che cosa ha salvato test png questo qui ah ecco e questa è la mia applicazione ciao roma.js se non ci credete che è questa qua basta andare in app tsx e vedete che c'è roma.js però una volta che sono arrivato qua livello di automazione ho detto ma perché non mi posso spingere un po' più avanti e quindi che cosa andiamo a fare in questo test che voglio far vedere dov'è qua ancora non ci ho preso mano con le shortcut possiamo andare a fare un'altra cosa che è dove app ok in questo caso quello che vado a fare è leggermente diverso come prima apro app tsx anzi lanciamolo ancora meglio read and replace the file deve essere questo qua che cosa vado a fare vado ad aprire sempre localhost dopo aver fatto partire vite controllo che siano presenti ciao roma.js e app header due cose a caso che sapevo che ci fossero nel file quello che abbiamo visto prima ma poi faccio un'altra cosa vado a prendere un altro file che si chiama app tsx questo qui e lo metto al posto dell'applicazione precedente questo qua lo faccio sempre nel file che ci siamo persi ok qua vedete vado a fare read file di questo file lo vado a scrivere al posto di quello originale aspetto insomma un secondo virgola due giusto ad essere sicuro che vite riaggiorni tutto e poi vado a controllare che esista il testo max che so esserci perché ce l'ho messo io e di questa cosa possiamo fare anche un'immagine dell'applicazione che ho preso fondamentalmente sostituendo ah oltre a cosa come ho menzionato prima un test non dovrebbe modificare il sistema almeno secondo me infatti come vedete qui alla fine di tutti questi test prendo questo underscore underscore app e lo metto al posto di app quindi ricreando in perpetuo la posizione iniziale quindi passerà sia il test di ciao RomaJS che poi di quello dopo che per motivi di tempo vi faccio vedere solo il risultato e questo è quello che ci viene alla fine utilizzando insomma non sono un grafico non sono anche un designer front end però è un risultato per me estremamente buono perché innanzitutto perché è stato facile da ottenere basta sapere React insomma questa è una lista di elementi usare CSS per me sul testo aggiungere bordi aggiungere opacità eccetera eccetera è molto più facile che non farlo con un editor grafico ma in particolare questo rimane sempre automatizzabile e questa è insomma il componente fondamentalmente è racchiuso qui insomma questa è la leggenda che vediamo dove stava nello screenshot precedente c'era una leggenda insomma c'erano i risultati del della corsa insomma se uno vuole poi modificare come appare basta semplicemente si fa modificare il CSS di questo quindi per me alla fine è ovvio che non è stato più facile fare questo che farlo almeno la prima volta con un editor ma è stato comunque estremamente veloce perché fare tutto questo scrive tutto questo codice ottenere questo risultato comunque ci è voluto un paio di giorni e rimane sempre il fatto che può essere sempre espanso perché da questo punto se decido che anziché essere semplicemente span gli elementi testuali all'interno di questa della nostra pagina anziché essere span posso decidere che sono bottoni e posso continuare lungo la mia applicazione simulare il click di questo vedere se sono persi altre cose eccetera eccetera non c'è tempo insomma quindi per finire cosa possiamo dire come ho detto all'inizio dell'intro la parte importante non è tanto il trasmettere questa è la via migliore per fare il to end questa è migliore per fare il test automazione è meglio capire il problema che si ha e capire qual è il tool specifico dipende dal team che avete insomma da tante cose però sicuramente Playwright copre il 99% delle cose che almeno servono a me se l'1% si chiama Internet Explorer è molto facile da utilizzare è possibile generare come abbiamo visto test in automatico linkarli all'amico tuo semplicemente dandogli l'URL si possono fare un milione di cose ma l'esperienza che vi vorrei portare è che uno ne vale molto la pena è un'esperienza molto creativa perché ogni iterazione ti vengono sempre più idee in mente all'inizio questa deve essere solo una lista di insomma corsa risultato poi insomma ci abbiamo messo più cose e poi dopo mi è venuta l'idea vabbè ma se è una lista di spam può diventare la di bottoni eccetera sto già testando un sito e sto facendo uno screenshot di questo posso continuare è molto divertente vi semplifica la vita un'applicazione che io ho scritto e l'ho scritta proprio in maniera scema e appunto abbiamo visto prima non la vediamo all'atto pratico il generatore automatico di codice bilancia del browser io ho automatizzato ad esempio git lab e gira che sono due siti su cui vado in continuazione almeno 5 6 7 8 volte al giorno su ognuno e ho automatizzato il fetch dei dati e che semplicemente stamparlo su standard io quindi niente di trascendentale non so se ne è balsa la pena o meno però riuscire a risolversi tutti questi problemi che abbiamo tutti i giorni sia di aspetto lavorativo che ci può interessare più o meno dipende se si fanno test end to end è utile per fare anche sviluppo ma soprattutto appunto nella vita e nelle sperimentazioni di tutti i giorni vi consiglio di darci una prova davvero se volete tra i playwright ci sono tanti esempini lì ve li lanciate ci mettete la vostra pagina il vostro sito in produzione e vedete che cose riuscite a combinarle secondo me è un'esperienza molto molto divertente e molto produttiva e con questo ho concluso grazie veramente interessantissimo aggiungo una cosa intanto siamo aperti alle domande se avete qualche domanda al volo anche da casa le riportiamo al volo prima di andare a cena e colgo l'occasione per agganciarmi a quello che diceva Enrico sia da un punto di vista sperimentale probabilmente se siamo qua è perché ci divertiamo anche a fare le cose inutili solo per imparare a qualcosa di più un'altra versione di questo aspetto qui che mi è capitato di fare qualche mese fa da cui poi ho una domanda qualche anno fa era utilizzare un sistema simile per prendere delle pagine wiki di un sito seguire i vari link buttare simile a come ha fatto Enrico dentro una pagina HTML tutto il contenuto metterci del CSS extra e fare un PDF perché un'altra libreria usavo pappettiera anziché questo stessa cosa anziché lo screenshot ti permette di fare l'export a PDF come se lo facessi da Chrome e lì ho generato un PDF da un wiki è un caso simile in cui ho utilizzato una cosa del genere e da qui la domanda rispetto non so se se hai mai provato Puppeteer a livello di API nello scrivere selettore nello scrivere click quant'altro grosse differenze con Playbrite o beh no si vede beh no non ci sono enormi differenze alla fine si va un po' a cercare poi magari il cambio del nome il team si vede che è lo stesso di quello di Puppeteer grazie intanto ringraziamo anche Valerio da casa che ci ha segnalato che ti stava scaricando la batteria del computer durante la presentazione sono arrivato no 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 è un 20 minuti che siamo così grazie Valerio di averci salvato domande qualche domanda sì aspetta faccio la valletta eh sì perché così da casa almeno capisco una domanda ok ma io invece ti volevo chiedere c'è la possibilità di basare il risultato di un test sul diff tra due screenshot nel tempo allora aspetta 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 sul fatto che esista un API nativa per gli screenshot non l'ho controllato so per certo che ci sono però varie librerie che ti permettono di fare il diffing di due immagini questo sì se ci si può sempre comunicare in qualche modo non so se si possa integrare facilmente con i test questo no ok il riporto ok dal pubblico per casa suggeriscono gest snapshot c'ha l'utility sua dove gli passi la png e lui permette dire l'immagine pure ma nativo nativo perché conosco per snapshot json c quello dell'immagine anche nativo quindi quindi poi lo usi sulla se c'è la gesta allora sarà sicuramente integrabile con playwright perché sono abbastanza sicuro che sia basato tu c'è proprio playwright ok le feature comunque qui sono talmente tante che basterebbero penso un mese per vederle tutte o anche per vedere la maggior parte delle API altre domande adesso anche da slack da casa con webkit sì l'ho usato senza problemi da qualsiasi piattaforma su cui l'ho provato ovviamente non è safari safari però è webkit potremmo anche lanciarlo però poi prendiamo tanto tempo comunque non mi ricordo come si fa la config qua vabbè non me ne frega niente forse cli comunque quando apri in modalità add non addless quindi add puoi proprio vedere che la tua istanza del tuo browser la tua pagina aperta con webkit altre domande? fine? vai ci fa vedere l'afficio di registrazione? ci hai giocato un pochetto ok lui ha capito adesso siamo tutti in trevidante attesa di vedere c'è una cosa anche leggermente più complessa così vediamo anche come però ti aggiungo una difficoltà in quattro minuti che abbiamo tutti fame quattro minuti che ho play brett ci testi tutto ecco quello che succede quando lanciamo il programma che ci permette di registrare i test in questo caso credo abbia aperto però avrei potuto pure aprire un browser webkit funzionava uguale andiamo su una pagina tipo github e quello che notate è che qui viene già automaticamente viene automaticamente scritto quello che state facendo quindi nel mio caso qui vabbè siamo qui immaginate che voglio vedere tanto se fate in over se notate si vede un pochetto il selettore una cosa io non sono fan dei selettori di testo perché appena avete un sito per cui ci sono le traduzioni non va bene più la tecnica da cui anche i vari tanti data test id ad esempio vado qui sulla mia repo scegliamo play write presentation me l'avevo preparato questa casistica projects tanto così è come mi prendo tutti i giorni i miei issues che c'ho su gira ho automatizzato questa cosa ci ho navigato una volta ho selezionato la lista e ogni volta poi me la stampo in console log e vabbè insomma abbiamo cliccato qui e vedete che viene generato questo testo non mi funziona command più quando c'è qualcosa attaccato non so perché ingrandisce vabbè abbiamo questo qua e vedete viene generato tutto il test tutto il codice per il test ma la cosa che io trovo più interessante da questo salviamolo stoppiamolo chiudiamo e che se adesso io torno in visual studio code out.json ha creato questo file questo file out.json in cui ci stanno non solo le informazioni in cui ci stanno lo stato di autenticazione con il sito quindi se voi volete mettere su una CI qualcosa che non contenga utente e password fate il login da un computer prendete questo file out.json che come vedete fondamentalmente è una collezione di cookie e con questi potete loggarvi automaticamente quindi se io vado ad esempio adesso ad eseguire questo test prendiamo questo incolliamo quello che abbiamo copiato prima andiamo su qual è questo mi sembra e se lo lancio vabbè qua vedrò semplicemente che funziona lo dovrei aprire in edit comunque andrà a eseguire tutte le le azioni e si andrà a prendere questo file out.json che contiene già lo stato lo stato l'autenticazione pensate quanto è facile testare il vostro sito così con il generatore automatico che non ha mano senza esagerare io per testare la nostra applicazione che non è particolarmente grande ci è voluto lo sforzo di penso due o tre ingegneri per mesi per mesi insomma anche motivo per cui sono timido nell'andare nella mia organizzazione e dire guardate che ci si potevano mettere quattro ore con playwright a fare tutto la stessa cosa perché è un po' pericoloso rischi la tua vita poi ovviamente gli esperti sono loro comunque devi pure pensare che magari loro l'avano già considerato però non è sempre detto però è molto molto facile come vedete qui abbiamo proprio copia e incollato quello abbiamo fatto pensate vedete fare un refactor di una feature al volo la testate registrate le interazioni che vengono in mano copia e incollate qui il codice lo salvate e iniziate a rifattorizzare a fare tutto quello che vi pare sforzo letteralmente un minuto quindi siamo orientati nei quattro minuti ultima domanda c'è stato un po' di flame sui test non test no non è vero non è stato un po' di flame abbiamo provato a farlo sulle varie sui commenti ma non non architi con come Emanuele ci abbiamo provato no diciamo che da un punto di vista di front end siamo diciamo molto d'accordo in generale abbiamo già affrontato questo discorso per chi volesse su youtube 2020 non ricordo bene il mese trova il video di youtube del lì non mi ricordo neanche il nome chiedo scusa comunque di di Cypress che ha fatto tutta una una cosa su Cypress però sempre nell'ambito del end to end versus unit test in ottica di front end lato back end ovviamente è tutto un altro paio di mani che abbiamo altre considerazioni da vedere sempre perché diciamo portiamo qui le nostre esperienze empatiche quelle reali il tester più bravo che ho conosciuto in vita mia non era un'ingegnera era un project manager che sapeva fare una sola cosa in vita sua sapeva usare Postman questa persona che cosa faceva ed era molto efficiente nel farlo insomma mi sento di citarla usava post andava dal che ne so vi sia mai capitato della classica feature che vi siete messi d'accordo con il back end che sviluppa qualcun altro ma devo restituire questo devo restituire a quell'altro eccetera eccetera chi dà la colpa al front end no perché quello ancora non ha implementato bla 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 che cosa faceva questa persona per prevenire tutti i problemi si è imparato a usare Postman andava dallo sviluppatore back end e gli diceva guarda adesso mi dici quali sono tutte le chiamate da fare dalla fase di ricerca a quella di pagamento una dopo l'altra e le andava a scrivere in Postman e o provava come lo scemo quindi faceva una call scusate una chiamata e si copiava che ne so l'ID o quello che gli pare ma a volte riusciva pure ad automatizzarli proprio andando di copia e colla ed è molto impressionante per me che la persona che più abbia riconosciuto il valore del testing end to end e che poi questa persona li condivideva anche con gli sviluppatori front end quindi diceva so sicuro che funziona perché l'ho testato qui c'è il test dove faccio a manina tutte queste chiamate e alla fine riesco a pagare quello che insomma è la vostra feature è molto interessante mi andava di condividere questo project manager aveva solo quello come cosa positiva grazie Enrico e grazie a tutti per aver partecipato sono le otto e mezza abbiamo sforato un pochetto l'ora della cena adesso corriamo a cibarci e questo è l'ultimo meetup del 2021 ci vediamo fisicamente o digitalmente l'anno prossimo buon Natale buone feste buon inizio anno e ci trovate su slack romagis.org trovate tutti i contatti e vado a chiudere grazie a tutti buona serata come sempre ho scoperto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti